yugio a tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi ragazzi siamo qui con il nuovo episodio del market watch a questo giro per parlare di tutte le novità che sono uscite questa settimana in più qualche altra cartina che spai cata ma detto questo ovviamente prima iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da fantasia store il miglior negozio ragazzi per l'acquisto ne abbiamo parlato tante volte yugioh pokemon magic one piece forse will non ce l'hanno però no vice barch hanno calzini usati no hanno i lego hanno i calzini usati ragazzi hanno talmente tanta roba che non me la ricordo voi andate qua sotto nel loro link col mio refera link il codice sconto e acquistate e risparmiate siamo tutti contenti che codice sconto è qua eh io ve lo ve lo ricordo che può essere che non lo vedete stessa cosa ragazzi per jack store ne abbiamo parlato tante volte è il mio sponsor per l'acquisto di prodotto coreano giapponese roba one piece roba bandai aggradate cioè se vi interessa roba un po esotica anche lì il refera al link e codice sconto in più se volete liberarvi carte di yugi magic pokemon e one piece trovate il link del mio instagram sempre qua sotto contattatemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa interessante se ne può parlare detto questo erence ci sei sì perfetto andiamo a vedere adesso cosa è successo bene ragazzi io partirei da legacy of destruction retail edition ok non è una carta che è salita o scesa però è un prodotto che da noi in europa non è arrivato allora si tratta di un prodotto molto particolare in vecchio stile dove all'interno possiamo trovare quattro pacchetti di legacy of destruction e un token questa cosa come mi fa sentire un po scammato perché nel senso è quel tipo di prodotti che sono carini da far apparire in territorio europeo però konami a questo giro c'è totalmente cannati come è successo col prodotto di speed duel ma va bene non me la sto prendendo tanto a cuore e ce l'ho a morte con con konami però nel senso più avanti sarebbe no 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 sarebbe molto carino non essere escluso da queste cose grazie andiamo adesso non escludeteci più porco no 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 andiamoci a vedere adesso i token perché sono molto simpatici diciamo non sono incredibili però comunque diciamo che se volete comprarli tutti stanno tentando ovviamente di scammare partiamo dal primo e ovviamente il più costoso ovvero quello con yugi e i due spadacini dietro noi siamo il prezzo più economico di europa questo mi fa molto riflettere perché molto spesso siamo noi ad avere i prezzi alti e invece qua questo random x 98 ci vuole fare un favore comunque ragazzi non ci sono venduti di questa roba quindi è inutile pagare così tanto aspettate probabilmente scenderà ovviamente se sparirà questo di random voi dovrete comprarla dalla germania e dalla francia e spendere una roba come dai 6 ai 15 euro di spedizione mi dispiace può succedere questa cosa ragazzi miei ho spento il cash oppure non giocato a yugi non credo che il token ti permetta di giocare a yugi mi sembra un po eccessivo ma ok andiamo avanti abbiamo quello dei raid raptor anche questo molto più economico però non ci sono venduti di questa roba prezzo medio 5 euro forse un venduto c'è ma non viene calcolato poi andando avanti abbiamo quello del dottor crawler che in dall'italia sono cinque euro dall'estero un pochino meno è carino allora ammetto a parte che questo secondo me tra tutti è il più carino apprezzo l'idea nel senso che stanno facendo i token delle carte che hanno un personaggio nell'anime e così te li fa cioè non sono token buttati lì a caso hanno un loro senso mettiamola così fa fammelo trovare questo senso e questo nel pratico non mi dispiace diciamo che potevano sforzarsi assolutamente un pochino di più perché sono due png uno sopra l'altro e su questo non ci piove però diciamo apprezzo l'impegno spero che konami continui a fare robe interessanti nel corso di tutto l'anno perché stiamo nell'anno del 25esimo e sembra che tra vari annunci e cose che non appaiono sembra che debbano tirar fuori la bomba o fallire definitivamente diciamo le opzioni sono queste io spero che debbano cacciare fuori una bomba incredibile perché io vorrei continuare a giocare a yugi per i prossimi 50 anni mettiamola così io vorrei continuare a lavorare sono punti di vista io voglio continuare a giocare a yugi prossimi 50 anni e non dover buttarmi su un altro trading card game grazie e non buttarmi dal balcone anche 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 io non voglio continuare a lavorare dove lavoro quindi andiamo avanti passiamo al penultimo token che è quello con yugi e con gandora anche qui dopo i png questa praticamente il png preso preso credo dall'anime e del film quindi ok molto carino ci sta non credo di giocare gandora nel futuro anche se comunque il mazzo col sarcofago non mi dispiace e anche questo si aggira sui 2 3 euro quindi ragazzi cosa vi fa capire questo che anche il primo deve scendere per forza o è short printato a merda o deve scendere su questa cifra più o meno andiamo con l'ultimo abbiamo il più brutto che è personaggio di penso arc 5 boh con c'è la carta con questo allora konami quando vuoi fare queste cose consiglio è non non è niente di troppo particolare i token ridisegnali e fai una bella full art buttala di fuori che tan santo sono token e metti delle tipe con delle tette enormi no allora fai delle belle full art come quelle di pokemon allora hai fatto quelle robe incredibili col mago nero la il drago bianco drago teschio nero di su rush duel falli sui token ti giuro ti giuro che li compro tutti tutti perché non mi interessa la cifra non mi interessa quanto devo sbustare li voglio tutti già ho già capito avendo se già venduto il culo così signora konami meglio di così è nel senso allora io ho visto le robe di rush duel ieri sera perché mi stavo annoiando ammetto che mi stavo annoiando e quindi ho detto cazzo ero partito prevenuto dal layout di rush duel però sono veramente troppo belle e quindi prossimo acquisto dal giappone sarà prodotto sul prototipo di rush duel dove posso trovare le full art e si prova a trovare la full art è una cosa che succederà andiamo avanti e non soffermiamoci sui miei problemi finanziario slash economici e andiamo a vedere alcune carte che sono salite questi giorni soprattutto a causa di supporti che sono stati annunciati ovvero ma dolce ragazzi allora hanno annunciato della roba che non ha se non era finito il market watch non era il market watch dei token abbiamo no abbiamo ovviamente è la prima carta che è salita che salone magic dolce ovviamente carta da monoprint da etko attualmente ragazzi questi sono le cifre stava sui 15 è salita sui 20 e questa non cosa gli vuoi dire è forte ea monoprint quindi questo fatto poi nel senso i supporti sono molto buoni se non ricordo male c'è un xyz che fa tipo zeus che si può mettere sopra e poi ma sciaffola due dal cimitero al mazzo e due dal campo avversario nel suo mazzo senza targhettare quindi diciamo che era quello che effettivamente un po un po serviva al mazzo e poi probabilmente ho cannato leggermente l'effetto però indicativamente dovrebbe essere così andiamo avanti con le altre carte ma dolce perché ovviamente qualcosa deve pur spaccare soprattutto le max rarity abbiamo magi dolce regina chiammi su a parte che era una carta che già costava un boato perché ovviamente è una ultimate è in prima edizione è figa diciamo che l'andazzo è dai 40 in seconda 45 in prima anche qualcosina di più e poi è salire tutto qua vediamo un attimo sia una print qua tutto quasi nulla di vediamo la print più economica vabbè ovviamente quello della battle of legend non è salita forse leggermente c'è qualche venduto più alto ma la trovate in maniera molto semplice tranquilla perché c'è pure gold se non ricordo male andiamo avanti abbiamo anche la puddinci pesa guardate anche questa che grafico un po un po andante a salire guardate un po eh sì diciamo si vende tra i tre davvero da che set è sta roba da redo bisogna tirarle tirarle fuori tutte ce ne ho due apposta abbiamo fatto i soldi diciamo che va dai 30 ai 40 però c'ha venduti che arrivano fino a 45 probabilmente è inglese prima edizione perché se guardate le inglesi stanno a qualcosina di più di quelle italiane sì ce n'è una poi 60 inglesi vabbè lasciamo stare diciamo che volerlo buildare alla massima il mazzo potrebbe leggermente ma dico leggermente costare eh la butto lì poi andiamo con la prossima questa qui è già un pochino più tranquilla abbiamo angelatina anche questa sta sui eh questo 2x340 non è assolutamente male perché se no il primo playset sta a 1750 340 1750 va bene forse che in italiano ce ne stanno pochissime quindi dovete fare tipo acquisti da persone differenti andiamo a vedere l'altra versione perché ovviamente esisteva anche secret da blar eeeh adesso fai buyout anche questa dall'italia ovviamente non si trova hanno fatto sparire sparire tutti i playset ok c'è abruzzo best card che ne ha un playset poi va a 8 e a 10 vabbè comunque è una carta che è ecca abruzzo best card mio fratale tanto è inutile considerare la singola perché con una ce fai poco tanto ok la prendo a 4 ne devo compra 3 e so 4 più 8 4 più 8 4 più 8 si 4 più 8 4 più 3 quindi la situazione è quella andiamo avanti passiamo a altre carte che si sono ripate grazie a tenpai ovviamente perché possono essere delle tèche molto interessanti abbiamo frecce anti magia io questa carta la conoscevo però effettivamente non avevo mai letto l'effetto andiamo a vedercelo tutti insieme perché può essere interessante all'inizio della battle phase per il resto di questo turno dopo che questa carta si è risolta nessun giocatore può attivare carte magie trappola o i loro effetti nessun giocatore può attivare carte effetti in risposta all'attivazione di questa carta questa cosa vuol dire che tu arrivi in battle tutto bello tranquillo tiri questa apposta esatto poi è rapida stai bello tranquillo infatti ovviamente da costare 59 centesi siamo arrivati venduti più alti 6 euro e 32 e sarà per forza in inglese e beh per forza sì sì ecco 5 euro e 49 più che inglese american però i primi playset stanno a 1 e 45 nella versione ultra poi eh abbiamo varie versioni abbiamo quella speed duel a 2 euro comunque ci hanno voluto lucrare poco eh forse perché aveva tante print ed era poco cioè era inutile lucrarci sopra cioè anche come una speed duel però nel senso almeno un 25 centesimi fissi ce li ha come carta eh per essere una comune a speed duel è veramente tanto eh esiste comune anche da qualcos'altro sai che non lo so c'è gold ovviamente che anche questa è abbastanza economica e basta ok gold è come se fosse comune sì e poi c'è quel drago ragazzi altra carta che è simpatica all'interno di tenpai e si usa per avere tipo la protezione da qualcosa non me la ricordo quando questa carta è evocata specialmente puoi targettare una carta nella tua zona pendola evocata specialmente ah i mostri dell'avversario non possono attivare gli effetti durante la battle phase questa carta se l'altra ovviamente aiutava tenpai questa lo ferma perché non fa attivare gli effetti dei mostri durante la battle phase e noi conosciamo tenpai sappiamo cosa fa effettivamente diciamo che ha tutta la sua giocata lì e quindi capiamo che nel momento in cui non può attivare i loro effetti durante la battle phase è un po' problematico forse ti immagini tipo un mirror tu chiudi con questa e giochi in tenpai poi non so se la puoi tirare effettivamente dovrei vedere i livelli dei mostri però tiri questa e quindi il tenpai per salio non ti può dicappare perché non può attivare gli effetti tutto questo discorso potrebbe non avere senso perché forse non la puoi neanche tirare però ci stavo pensando è simpatico simpatica come cosa andiamo avanti abbiamo adesso banshee banshee questa carta è stata sempre un po' lì dicevi ma sale non sale e adesso sta leggermente salendo ragazzi allora a parte tutto è una carta forte per i mostri pyro soprattutto se la puoi tirare di livelli 4 perché stacca un materiale prendi il mostro pyro dal deck e lo aggiungi alla mano mandalo al cimitero se questa carta viene bandita e tu controlli un mostro pyro puoi evocare specialmente questa carta e se lo fai guadagna attacco pari all'attacco dei mostri attualmente banditi per cento fino al fine di questo turno può attivare ogni effetto una sola volta per turno ragazzi è un sercino è un sercino per i pyro si tira abbastanza facile e poi è di agob ovvero un'espansione uscita praticamente oramai quasi sei mesi fa quindi ci sta che comunque la carta sia salita perché se non ricordo male attualmente c'è un mazzo che può tirarla andando avanti ragazzi abbiamo la roba memetland finalmente valorosi distruttori ha preso senso il lede sono usciti dei nuovi supporti ovviamente il mazzo è risultato più interessante e ovviamente le ultra di un set che le persone non si sono assolutamente inculati a parte per centurio stanno salendo attualmente come vedete la magia è leggermente spiegata ma dico leggermente perché si vendeva 8 euro e 70 attualmente è arrivata a 14 lucaretta non so se ve lo ricordate ragazzi ha portato un sacco di declist sul canale di roba che viene da quei set sarà molto contento perché ovviamente l'avrà pagato 3 euro e 70 stessa cosa ragazzi abbiamo anche la strega anche questa da 8 euro è spiegata a 14 io l'avevo già caricata a 14 metto le mani avanti perché ero sicurissimo salisse adesso un pochino abbassata e vabbè ci farò 3 euro in più rispetto a quanto quanti c'erano fatti prima guardate il grafico guardate quanto quanto sta salendo abbiamo la tua felicità nel guadagnare soldi su una carta che hai fatto spiegare tu però non credo di averla fatta spiegare io non attualmente no considerate che quello che costano sono i playset è stata colpa tua sì sì tutta colpa mia ecco guardate qua questi sono gli unici playset che sono disponibili sul market ma ok e anche mi mette l'anno vedi 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 te la flexi anche che sei l'unico ad averli non sono io io non ho una copia quindi non una copia una copia addirittura ce ne hai eh lo so lo so lo so sono sono il king del marketing devo comprare tutte allora andiamo avanti abbiamo vabbè l'altra carta mementlan anche questa leggermente salita poco però anche questa è arrivata sui 3 euro chiamala così stava anche a meno andiamo a un altro mazzo sempre di valorosi distruttori abbiamo centurio che anche questo è leggermente salito a causa dei supporti ma non così tanto nel senso erano sia trudea che sua sorella primera stavano di base all'inizio a questa cifra poi nel corso degli ultimi mesi erano leggermente scese perché comunque non c'erano eventi non c'era niente e quindi il mazzo aveva perso di interesse perché ragazzi era inutile giocarlo in un meta in cui non esiste e attualmente con i supporti e il gioco che si riavviva ultimamente sono tornata a costare 20 euro l'uno però di base appena uscite questo era il loro prezzo anche qua playset sui 20 euro anche qua playset sui 20 euro quindi niente di troppo particolare andiamo con la prossima abbiamo altra carta centurion legatia è rimasta costante e emet stessa cosa non è cambiato niente diciamo che le due principali sono ancora basta c'era una magia centurion che era quella che costava il denaro vediamo se attualmente è così ah vero la spell sono sono stupido ragazzi eravamo eravamo cannato la più importante siamo stupidi allora no perché non riesco ecco guardate che guardate il grafico questa questa secondo me è quella che è salita di più perché era scesa era scesa sui 17 più o meno adesso è tornata sui 26 però anche questa di base già partiva a cifre molto più alte stava sui 30 33 euro all'inizio quindi diciamo è un re hype post post supporti allora andiamo avanti abbiamo il timelord progenitor borough gate carino protegge si sta hypeando perché ho scoperto giocarsi in yubel può essere si si no ve l'ho preso l'informazione da un altro canale non me ne vergogno ah ok no pensavo che l'avesse ipatata nel senso ne ho una si la è da 3 euro lì stai libera tranquilla e vabbè un sincro per proteggere il yubel così si è si è salita guardate qua quanto sta cioè allora vediamo dall'estero forse i prezzi sono più accessibili no no 30 euro è il primo prezzo poi è salire è ok ragazzi i prezzi non li hai resi più accessibili è sempre colpa allora ragazzi questa ricordiamo questo questa usciva dal manga è una promo manga non mi cagate il cazzo non l'ho comprata io ho scoperto stamattina che si era ipata quindi è tutto un dire poi passiamo alle ultime tre abbiamo la sacerdotessa ovviamente ragazzi questo è sarcino sono usciti nuovi supporti per quanto riguarda ashened e quindi ovviamente carta che aggiunge è sinonimo del se gioca e il prezzo sale attualmente sta sui 3 euro e 90 ho visto anche in america sta sulla decina d'euro però rispetto ai 90 centesimi che stava prima che annunciassero se non ricordo male la fusione mettiamola così è un già un 400 per cento per cento per cento e poi andiamo con le ultime due la prima è aegin che ragazzi questa è fortissima e si giocherà in barriera di ghiaccio quando uscirà al battle of legend terminal world e ragazzi è così entra special e fa token sincri dovresti fare il nuovo trisciula il nuovo sincro barriera di ghiaccio e ragazzi con monocarta mi sembra molto buona e si vende fino a 11 euro più o meno poi vabbè forse si è leggermente abbassato ultimamente ma nel senso fino a 11 euro ci sta e per concludere l'ultima gran gugnol che non l'abbiamo visto l'altra volta con la banded mi sembra anche questo si era riaipato perché ovviamente despia non è stato toccato quindi ovviamente bisogna ritirare su tutto come è successo che sta a 44 euro e si vendeva a 20 come è stato per tutte le altre carte mettiamola così mi pare onesto non vedo nulla di sbagliato in quello che stai dicendo e va bene ragazzi il video finisce qua però come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento ovviamente se avete acquistato queste carte prima o se è colpa di qualcuno di voi che una di queste carte si è arrivata ci può stare che mi ha preso il matto che avete preso 70 copie della stessa carta e adesso le state ripetendo di più detto questo ragazzi ovviamente state me easy vi ricordo ovviamente il like e il commento e noi ragazzi ci vediamo domani sempre qua ovviamente sempre con un nuovo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti